lo catenaccio trattenimento nono della giornata seconda il catenaccio nono passatempo della seconda giornata c'era una volta una mamma che aveva tre figlie e per la grande miseria che aveva messo piede nella sua casa e che era una fogna dove scorrevano i torrenti delle disgrazie le mandava a chiedere l'elemosina per tirare a campare e una mattina avute certe fronde di cavolo gettate da un cuoco di palazzo e volendo cucinarle disse ad ognuna delle figlie che andassero a prendere un poco d'acqua alla fontana ma l'una se la paleggiava con l'altra facendo come la gatta che comanda alla sua coda tanto che la povera mamma disse comanda e fai da te e presa la brocca voleva andare lei a fare questo servizio anche se per la gran vecchiaia non riusciva a trascinare le gambe ma luciella che era la più piccola disse dai qui mamma mia perché anche se non ho la forza necessaria tuttavia voglio evitarti questa fatica e presa la brocca andò fuori città dove c'era una fontana che vedendo i fiori impalliditi per la paura della notte gli gettava acqua in faccia dove trovò un bello schiavo che le disse oh bella ragazza mia se vuoi venire con me in una grutta poco lontana ti voglio dare tante belle cosine luciella che era sempre in attesa di qualche favore gli rispose lasciami portare questo poco d'acqua mia madre che mi aspetta e poi torno subito e portata la brocca a casa con la scusa di andare in cerca di qualche scheggia di legno tornò alla fontana dove trovato lo stesso schiavo si avviò dietro di lui e fu portata attraverso una grotta di tufo coperta di capel venere di edera in un bellissimo palazzo sotto terra che era tutto luccicante d'oro dove le fu subito apparecchiata una bellissima tavola e nel frattempo uscirono due bei pezzi di servi per postoiarla di quei pochi stracci che sportava e di vestirla di tutto punto facendola coricare a sera in un letto tutto ricamato di perle oro dove appena le candele furono spente si venne a coricare qualcuno durata questa faccenda un poco di giorni alla fine volne voglia questa ragazza di vedere la mamma e lo dissi allo schiavo che è entrato in una camera e parlato con non so chi tornò fuori dando gli un gran borsone di denari e dicendole di darle alla mamma ricordandole di non dimenticarsi lungo la strada e di tornare presto senza dire a nessuno da dove veniva né dove stava ora arrivata la ragazza e vedendola le sorelle così ben vestita e tanto ben rimessa ne ebbero un invidia da creparci quando luciella volle tornarsene via la mamma e le sorelle avrebbero voluto accompagnarla ma lei rifiutando la compagnia se ne tornò nello stesso palazzo attraverso la stessa grotta e dopo essere rimasta tranquilla per qualche altro mese alla fine le venne la stessa voglia e fu con le stesse raccomandazioni gli stessi doni mandati da dalla mamma e capitata questa faccenda tre o quattro volte aggiungendo sempre sciroccate di invidia all'ernia delle sorelle alla fine quelle brutte arpie tante andarono frugando che con l'aiuto di un'orca venero a sapere come andava tutta la faccenda e tornata un'altra volta da loro luciella le dissero anche se non hai voluto raccontarci nulla dei tuoi piaceri sappi che noi sappiamo tutto e che ogni notte ti danno il sonnifero e non puoi accorgerti che dorme con te un giovane bellissimo e tu resterai sempre con questa allegria incompleta se non ti decidi a seguire il consiglio di chi ti vuole bene in fin conti sei sangue nostro e noi desideriamo il tuo utile il tuo piacere perciò quando ti vai a coricare la sera e viene lo schiavo con lo sciacqua denti tu chiedendogli di prenderti un tovagliolo per pulirti la bocca getta abilmente il vino dal bicchiere perché tu possa rimanere sveglia la notte e quando vedrai tuo marito addormentato apri questo catenaccio perché a suo dispetto questo incantesimo si annullerà per forza e tu rimarrai la femmina più felice del mondo la povera lucella che non sapeva che sotto questa sella di velluto c'era la piaga e tra questi fiori c'era il serpente in questo bacile d'oro c'era il veleno diede detta le parole delle sorelle tornata alla grotta e venuta la notte fece come le avevano detto quell'embroione e quando ci fu silenzio dappertutto accese con l'acciarino una candela e si vide accanto un fiore di bellezza un giovane che non vedevo altre che giglie rose lei vedendo una così grande bellezza disse parola mia non mi sfuggi più dalle zampe e preso il catenaccio l'aprì e vide alcune femmine che portavano sulla testa tante belle matasse di filato ad una di queste cade una matassa e luciella che era un pozzo di elemosina non ricordando dove fosse alzò la voce dicendo alza il filato mia signora a questo strillo giovane si sveglio e provontale dispiacere per essere stato scoperto da luciella che in questo stesso momento chiamato lo schiavo e fattele rimettere addosso i suoi stracci la mandò via e lei con il pallore di che è uscito dall'ospedale tornò dalle sorelle da cui fu cacciata via con parole vergognose e fatti ancora peggiori per questo si si è chiedere le lemosine in giro per il mondo tanto che dopo mille sofferenze la disgraziata era sul punto di partorire e arrivò alla città di torrelunga e andata a palazzo reale chiese un po di ospitalità sulla paglia dove una domigella di corte che era una brava persona la colse e arrivata l'ora di svuotare la pancia fece un bambino così bello che era una spiga d'oro ma la prima notte dopo la nascita mentre tutti altri dormivano entrò in quelle camere un bel giovane dicendo che bel figlio mio se mamma mia lo sapesse ti laverebbe in una conca d'oro con fasce d'oro ti fascerebbe se il gallo non cantasse mai mai da te mi allontanerei così dicendo al primo canto del gallo se la squaiò come l'argento vivo la dammigella accortasi di questo e visto che ogni notte veniva lo stesso giovane a fare la stessa musica lo disse alla regina che appena il sole come un medico mandò via dell'ospedale del cielo tutte le stelle fece pubblicare un bando crudelissimo che fossero uccisi tutti i galli di quella città facendo tutti insieme vedove e tosate tutte le galline che c'era e tornando la sera quello stesso giovane la regina che era pronta sul cannone non perdeva il suo tempo riconobbe che era suo figlio e l'abbracciò strettamente e poiché la maledizione lanciata da un orca a questo principe prevedeva che andasse sempre ramingo lontano dalla sua casa affinché la mamma non l'avesse abbracciato e il gallo non avesse cantato così appena fusa tra le braccia della mamma si disfece l'incantesimo e finì il triste influsso così la mamma si trovò ad avere acquistato nipote che era un gioiello l'uccella trovò un marito bello come il fato e le sorelle sapute della sua fortuna se ne vennero con una faccia di piperno a trovarla ma gli fu data pizza per tortano e furono pagate con la stessa moneta e con grande rabbia e si accorsero che il figlio dell'invidia e l'accidente e